GAM lavoratori in attesa per la proroga della cassa integrazione il consiglio regionale approva una proposta di legge a tutela dei dipendenti dopo le pressioni degli stessi atto dovuto dicono i sindacati ma serve più concretezza. Invertenza e sattorie accordo in definizione si lavora per riassumere al più presto parte del personale grazie all'affidamento dei servizi di riscossione del comune di Isernia sperano i lavoratori. Scuole sicure bagarri in commissione riunione infuocata in comune a Campobasso con i genitori che chiedono risposte dicono l'amministrazione non dà certezze urge trovare subito soluzioni. Integrazione dei migranti siglato un protocollo lo hanno firmato l'associazione costruttori edili e l'associazione dalla parte degli ultimi per inserire socialmente nel lavoro gli stranieri senza sostituire le maestranze locali. Campobasso si prepara domani la su e giù 43esima edizione della gara podistica amatoriale non competitiva lo start alle 10 da piazza della vittoria calcio serie di Campobasso e Agnone in trasferta nelle Marche. Buon pomeriggio benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale in apertura parliamo della GAM perché ieri il consiglio regionale riunito in una seduta straordinaria ha approvato all'unanimità una proposta di legge a tutela dei lavoratori che sono in attesa della proroga della cassa integrazione. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. E ieri nel corso della seduta del consiglio una seduta straordinaria l'aula ha trovato l'accordo predisponendo un testo di legge che è stato sottoscritto da tutti i consiglieri presenti sia di maggioranza che di opposizione. In sostanza la regione autorizza la finanziaria regionale la filmolise a farsi garante per un importo massimo di 1.500.000 euro nel caso in cui il Ministero del Lavoro non dovesse concedere la proroga di un anno della cassa integrazione straordinaria. L'eventuale sborso è scritto nella legge e non graverà sulle casse regionali ma sarà carico del fondo di garanzia alle imprese gestito sempre dalla filmolise. La richiesta degli ammortizzatori sociali intanto è stata già inoltrata dunque c'è attesa per la decisione che adotterà il Ministero. L'approvazione della proposta di legge è arrivata al termine di un lungo pomeriggio ad assistere ai lavori una nutrita delegazione di lavoratori della GAM che avevano annunciato il presidio permanente. Nel frattempo in commissione le forze politiche trovavano la quadra sull'impostazione del provvedimento. La votazione in tarda serata. Una votazione salutata con soddisfazione dal Governatore che ha parlato di una importante espressione di concretezza e attenzione nei confronti dei lavoratori da parte del Consiglio. Noi avevamo chiesto che la Regione si facesse garante dei lavoratori che, va ricordato, non sono la causa dei fallimenti ma sono le vittime. Bene ha fatto dunque la Regione, non aveva altra scelta. Ha commentato Serafica Tecla Boccardo, segretaria regionale della UIL. Il clima intanto è quello di attesa, attesa degli eventi e di capire come si muoverà ora la Regione. Verso una soluzione positiva all'avvertenza di esattoria SPA è in via di definizione l'accordo per la riassunzione di parte del personale grazie all'affidamento dei servizi di riscossione del Comune di Isernia. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Verso una soluzione positiva all'avvertenza dei dipendenti delle ex esattorie SPA. Infatti dopo la revoca della delibera del Comune di Isernia, che aveva indetto un nuovo appalto per il servizio di riscossione, ma senza alcuna forma di protezione per gli ex lavoratori dell'azienda, si sta arrivando in questi giorni all'adesione al Consorzio Temporaneo di Imprese ICA Creset, che al contrario aveva garantito da subito la riassunzione di parte del personale. E a giorni, sicuramente entro fine mese, da Pollonio potrebbe anche arrivare alla sigla del contratto di concessione, alla ICA Creset, dei servizi di riscossione del Comune. Le riassunzioni, che potrebbero arrivare subito, ma è un dato da confermare, sarebbero una decina. La storia va avanti da giugno e da quando cioè il Comune deliberò per l'appalto in concessione dei servizi di riscossione dei tributi. Appena dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, fu Gianni Fantozzi dai banchi della maggioranza che chiese la revoca dell'appalto, insistendo perché il Comune trattasse con la società che si era appena giudicata alla riscossione del bollo auto regionale e che garantiva la riassunzione di parte degli ex dipendenti di esattorie. La richiesta di Fantozzi fu approvata dal Consiglio Comunale e il dirigente del servizio Finanze ha ora annullato il bando d'appalto. Da subito intanto sono partite le trattative tra la Ica Crescet e la giunta da Pollonio per verificare quanto tra l'ex personale di esattorie potrà essere riassunto grazie all'affidamento dei servizi di riscossione che al Comune di Isernia sono praticamente fermi da quando l'azienda dei fratelli Marcucci entrò in concordato. Le indiscrezioni parlano di una decina di unità e la sede sarebbe già stata individuata dalla Ica nei locali dove era ospitata la regione lungo Viale dei Pentri di fronte all'Automobile Club e che si tratti di una buona scelta lo conferma l'adesione al Consorzio arrivata proprio in queste ore anche da parte del Comune di Termoli. Insomma l'odissea degli ex esattorie si sta avviando al capitolo finale e c'è da sperare che aderiscano anche altri comuni in modo da riassumere la gran parte degli ex dipendenti. Dopo 13 aste andate deserta e cambio di strategia per cercare di vendere lo zuccherificio del Molise per la prima volta l'impianto sarà venduto in parti e il nuovo bando riguarda solo i beni mobili per 680 mila euro. Sul futuro dei lavoratori intanto resta l'incertezza. Fabrizio Occhionero. È un presidio oltranza a quello dei lavoratori dello zuccherificio del Molise. Resteranno lì pronti ad affrontare anche l'inverno fino a quando non arriveranno risposte da parte della regione per favorire il loro ricollocamento e creare nuove opportunità di lavoro. Un'attesa che si lega anche all'eventualità che qualche azienda possa rilevare la fabbrica e dare impulso all'occupazione. Tutto questo però non è ancora avvenuto e alle spalle ci sono 13 aste andate deserte. Nessuno ha presentato delle offerte per comprare lo stabilimento di Contrada Perazzeto e anche l'ultima volta il giudice delegato del Tribunale di Larino ha firmato un verbale riportando la stessa ricitura rispetto a un prezzo di 6 milioni e 500 mila euro. Ora la curatela fallimentare ha deciso di cambiare la strategia di vendita dello zuccherificio tentando una strada diversa, in sostanza quella della vendita in parti. L'ordinanza è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'azienda e riguarda un lotto unico composto solo da beni mobili e non interessa l'intera struttura come è avvenuto nei bandi precedenti. attrezzature, macchinari e altro sono riportati in dettaglio in un rapporto di inventario e non comprendono alcuni impianti e parti assimilabili ai mobili o parti di essi come due forni calce. Il prezzo a base di vendita per i soli beni mobili è stato fissato a 680 mila euro e le offerte devono essere presentate entro il prossimo 5 gennaio. Quattro giorni dopo è prevista la gara. La nuova procedura non impedisce eventuali manifestazioni di interesse da parte di aziende che volessero rilevare lo stabilimento in un territorio riconosciuto anche come area di crisi semplice e destinatario degli aiuti di Stato. È stato eseguito questa mattina dai carabinieri del NOE di Bari il sequestro preventivo di 8 treni regionali per un totale di 30 carrozze di proprietà di Trenitalia che era stato notificato all'azienda e alla regione Puglia in qualità di responsabile del servizio di trasporto il valore dei convogli sequestrati che svolgono il servizio tra Puglia, Molise e Basilicata ammonta 40 milioni di euro. Nello specifico si tratta di quattro treni Minuetto e altri quattro Vivalto. Stando alle indagini dei carabinieri del nucleo operativo ecologico coordinate dal PM della Procura di Bari, Baldo Pisani i treni smaltivano illecitamente rifiuti speciali non pericolosi quali reflui dei servizi igienici contenuti nei serbatoi attraverso lo scarico sui binari della tratta ferroviaria gestita da Trenitalia che si attiva quando la velocità del rotabile supera i 40 km orari. Resta sempre alta l'attenzione a Campobasso sul tema della sicurezza degli edifici scolastici in comune infuocata riunione della Commissione Lavori Pubblici alla quale hanno partecipato i genitori degli alunni della primaria Don Milani in cerca di risposta il sindaco Battista e l'assessore Maio erano presenti ma non sono emerse novità di rilievo. Sentiamo E' finita in bagarre la riunione della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Campobasso convocata per affrontare la spinosa questione delle scuole sicure in particolare della situazione degli alunni della scuola primaria Don Milani di Via Leopardi Ai lavori hanno partecipato anche il sindaco Battista e l'assessore Maio ed una nutrita delegazione di genitori lo scopo dell'incontro doveva essere quello di fare chiarezza su come si sta muovendo il comune per affrontare l'emergenza e in realtà dalla riunione non è venuto fuori nulla di nuovo l'unico dato da sottolineare è il clima di scontro che ha animato i lavori con Battista che a un certo punto ha abbandonato la Commissione infuriato i genitori degli alunni della Don Milani si aspettavano risposte dall'amministrazione risposte su cosa accadrà dal 15 gennaio in poi quando dovrebbero terminare i doppi turni ai quali i bambini sono costretti da quasi un mese su questo punto il sindaco e l'assessore si sono limitati a dire che entro quella data prospetteranno una soluzione scatenando le critiche ai consiglieri dei 5 Stelle della coalizione civica Battista ha anche ricordato come il comune abbia preparato un bando esplorativo per individuare strutture private che possano ospitare gli alunni un bando che ha fatto notare il consigliere dei 5 Stelle Gravina e la fotocopia di quello precedente preparato in occasione dell'emergenza di Via Crispi tensione alle stelle, genitori impietriti di fronte all'atteggiamento assunto dall'amministrazione sono volate parole grosse tra Battista e alcuni consiglieri di minoranza alla fine il sindaco ha abbandonato i lavori lasciando tutti di stucco intanto resta l'incognita per il futuro scolastico si intende dei bambini della Don Milani costretti a ribaltare la loro vita e cosa ancora più grave non si sa ancora fino a quando Un giovane di 30 anni è stato fermato dai carabinieri di Isernia mentre guidava ubriaco sulla statale 87 invadendo la corsia opposta e mettendo in pericolo gli altri automobilisti suo tasso alcolico è stato accertato era superiore del doppio rispetto al limite previsto è stato denunciato la macchina sequestrata e la patente ritirata e sempre i carabinieri ma di Venafro hanno denunciato un imprenditore edile del posto di 60 anni per non aver osservato le norme sugli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei dipendenti reati per i quali gli uomini dell'arma nel 2016 hanno già denunciato 95 persone e segnalato 104 lavoratori in nero i carabinieri di Larino hanno arrestato un 47enne di Rotello in esecuzione di un ordine di carcerazione per residuo pena emesso dalla procura di Campobasso l'uomo condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere e concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi nella provincia di Campobasso dal 2007 al 2009 deve scontare una pena residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione l'arrestato è adesso in carcere a Larino è stato firmato un protocollo tra l'ACEM, l'associazione costruttori edili del Molise e l'associazione dalla parte degli ultimi sull'integrazione sociolavorativa degli immigrati sentiamo i particolari promuovere l'integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale con un occhio particolare a chi è più vulnerabile è il senso del protocollo d'intesa per sviluppare collaborazioni firmato tra l'associazione costruttori edili del Molise e l'associazione dalla parte degli ultimi tra i rispettivi presidenti Corrado, Di Niro e Loredana Costa dalla parte degli ultimi organizzazione non governativa si occupa di accoglienza e sostegno all'inclusione dei migranti da paesi terzi e di chi richiede o è titolare di protezione internazionale e umanitaria un lavoro, quello dell'associazione di assistenza e supporto nell'integrazione anche orientando e ricercando lavoro e idonei percorsi formativi Siamo adesso con una presenza immigrata che si aggira intorno alle 8.000 unità su una realtà di richiedenti e titolari di protezione che supera le 2.000 persone questa è una regione che ahimè negli ultimi 50 anni ha perso quasi 100.000 abitanti e le previsioni anche fatti da istituti nazionali ci dicono che se il trend è questo nel giro di 50 anni ne perderemo altrettanto e noi in qualche modo vogliamo conservare anche una nostra dignità storica e una nostra identità storica forse in qualche modo abbiamo necessità di nuove forze e di nuove energie L'ACEM ha sottolineato Di Niro si è impegnata a divulgare e far conoscere i propri associati progetti per integrare i migranti socialmente nel lavoro e a coinvolgere le aziende iscritte sulle iniziative e i lavori dell'associazione dalla parte degli ultimi Integrare e non sostituire voglio evitare il mal di pancia voglio evitare che qualcuno se la possa prendere Noi abbiamo delle maestranze locali specializzate che purtroppo hanno degli anni sulle spalle e si ha difficoltà a trovare dei giovani da inserire e da affiancare a queste maestranze Quei pochi che ci sono vanno affiancati appunto da altre persone da altri giovani Con la firma di questo protocollo potremo provare affinché formando qualcuno di loro possa essere integrato quindi affiancato alle nostre maestranze Parliamo adesso dell'associazione di volontariato Afasev che in questi giorni ha portato a termine un progetto innovativo destinato a dare alle persone disabili benefici fisici e relazionali attraverso il contatto con i cavalli e gli asini il servizio di Sergio Di Vincenzo Un'esperienza particolare, inconsueta ma di grande efficacia quella che ha avuto per protagonisti gli ospiti del centro socioeducativo Benzi della comunità alloggio dopo di noi di Isernia attraverso il progetto Serenità hanno infatti avuto un contatto diretto con gli animali in particolare asini e cavalli una terapia innovativa che genera però notevoli benefici sia dal punto di vista psicologico sia fisico il progetto ha impegnato queste persone per quasi un anno dopo una fase preparatoria in aula tutti all'aria aperta per dare libero sfogo alle loro emozioni e alla loro gioia è stato un grande grande incontro una forma di innamoramento tra i nostri ragazzi e gli animali che a loro modo in maniera differente il cavallo e l'asino hanno donato qualcosa ai nostri ragazzi parlando soprattutto direttamente alla sfera emozionale da questa esperienza i ragazzi hanno potuto avere vantaggi su vari fronti dal punto di vista fisico perché il contatto con gli animali di sicuro riduce lo stress offre delle opportunità particolari soprattutto per alcune competenze la destrezza, l'equilibrio, il movimento la memoria viso spaziale e poi soprattutto dal punto di vista psicologico la socializzazione, l'affettività la capacità di riconoscere le proprie e le altrui emozioni il progetto sostenuto dalla regione e dal comune di Sernia ha coinvolto tutti gli operatori dell'AFASEV i familiari dei ragazzi i volontari, i proprietari di cavalli e l'associazione Ticanea SIEM che ha messo a disposizione i suoi asini l'esperienza è stata veramente bellissima perché ancora una volta oltre all'esperienza positiva che abbiamo avuto su bambini con alta disabilità con le carrozzine e tutto il resto abbiamo visto per la prima volta un sorriso a questi bambini e di poter lavorare con gli asini abbiamo fatto questo esperimento già con gli altri progetti e stiamo vedendo che man mano gli asini è un punto di riferimento su questa disabilità l'ANAS ricorda che dal 15 novembre fino al 15 aprile sarà in vigore l'obbligo di mettere pneumatici da neve o avere le catene a bordo per viaggiare sulle strade statali maggiormente esposte a rischio precipitazioni o formazione di ghiaccio l'obbligo è segnalato su strada con segnaletica verticale è stata premiata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la rassegna musicale intitolata Fabbrica Armonica è organizzata a Termoli da domani inizia la stagione invernale degli appuntamenti musicali e culturali sentiamo Fabrizio Occhio Nero un contenitore culturale che conferma l'impegno sul territorio e propone numerose iniziative al via la stagione invernale di Fabbrica Armonica rassegna musicale giovanile nata in collaborazione con l'associazione Punto di Valore il primo appuntamento è stato presentato nella sala della parrocchia del Carmelo di Termoli da Don Ulisse Marinucci dai maestri Basso Cannarsa Gianluca Delena e Alessandro Di Palma questo contenitore laboratorio dentro il quale confluiscono tante energie in maniera particolare le energie e le risorse dell'orchestra del coro Punto di Valore è davvero un luogo di scambio e di incontro culturale è una grande opera le cui risorse sono soprattutto l'umano dei nostri ragazzi la rassegna è stata premiata lo scorso luglio anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella siamo stati insigniti della medaglia quale premio di rappresentanza del Capo dello Stato questo ci fa onore ma naturalmente diventa luogo di responsabilità e quindi di programmazione ulteriore di impegni, iniziative e progetti si parte domenica 13 novembre alle 11.30 nella Chiesa del Carmelo con il concerto dell'orchestra Magna Grecia dall'opera alla canzone diretta da Piero Romano e apprezzata a livello internazionale si esibirà per la prima volta a Termoli verrà a proporre un repertorio classico in maniera particolare legato ad alcuni autori tra cui uno Tosti che è anche nostro quasi conterraneo perché è nato ad Ortone Fabrica Armonica presenterà a breve anche gli appuntamenti del periodo natalizio a metà dicembre l'orchestra e il coro Punto di Valore suoneranno in ospedale un concerto di Natale offerto in maniera particolare per gli ammalati dopo le personali a Verona a Bruges e le videoesposizioni di Parigi Vienna, New York e Washington l'artista molisano Campobassano Antonio Corbo espone a Stoccarda partecipando a una collettiva di arte contemporanea italiana nella City Hall è stata inaugurata il 9 sarà visitabile fino al 16 dicembre mostra organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura della città tedesca molto lusinghiere le parole verso i lavori di Corbo in particolare del critico Paolo Levi che ne ha lodato il talento la sperimentazione cromatica con cui comunica la sua percezione del mondo si intitola Tempo Imperfetto il libro è scritto da Massimo Dorzi presentato al Caffè Letterario Livre di Campobasso il libro è ispirato a una storia vera sentiamo Massimo Dorzi è un regista di film e documentari che ha voluto raccontare ma stavolta in un libro una storia ispirata a fatti realmente accaduti fatti di cronaca la vicenda di Erika e Omar Tempo Imperfetto l'adolescenza e la ricerca del sé tra realtà e fantasia il titolo del romanzo un noir strutturato sulle tappe dell'inchiesta della magistratura presentato anche a Campobasso al Caffè Letterario Livre ho avuto la possibilità anche grazie al magistrato che ha indagato per anni su questo caso e che per la prima volta ha aperto i fascicoli per poter fare un'indagine ulteriore perché non aveva mai permesso a nessuno nonostante televisioni di tutto il mondo perché questo è un caso che ha fatto il giro del mondo per l'efferatezza per la giovanità dei protagonisti quindi ho avuto la possibilità di indagare io a distanza di dieci anni quindi i fatti risalgono a 2001 ma dopo dieci anni ho sentito la necessità l'esigenza l'urgenza di ritornare su quel caso per indagare che cosa per indagare l'adolescenza sì attraverso un fatto un caso estremo come quello volevo entrare in quella casa volevo cercare di capire come una ragazza di 15 anni in un contesto familiare idilliaco in una provincia perfetta in una situazione apparentemente ideale potesse arrivare a compiere un fatto di questo genere perché lei ha scelto la forma del romanzo del noir io vengo dal cinema vengo dalla sceneggiatura avevo appena finito di scrivere una sceneggiatura per un grosso produttore e quasi non mi sono quasi neanche reso conto mi è riemerso questo caso è proprio il caso di dire che è avvenuto tutto in modo come dire non cosciente molto irrazionale questa storia è arrivata un po' così ho ripensato a questo caso e mentre lo ripensavo e lo rielaboravo sono finito dentro ma la sensazione che ho avuto è che l'avrei dovuto affrontare attraverso gli strumenti della letteratura e non della sceneggiatura e non del cinema e una cosa a cui tengo particolarmente è il fatto che un magistrato che aveva indagato su questo caso che aveva portato ai tre gradi di giudizio questo caso come è noto a tutti cercasse nella letteratura e nel cinema risposte che evidentemente almeno risposte interne emotive personali che neanche il caso nei suoi tre gradi di giudizio erano riusciti a fugare Anche quest'anno a Yeltsi si rinnova l'appuntamento con la festa di San Martino con la pizza con i soldi e la terza edizione a partire dalle 20 di oggi si potranno percorrere i vicoli del Borgo Antico e alietati da canti e musica popolare si potrà sostare nelle taverne per assaggiare piatti prelibati e sorseggiare vino sarà possibile anche tentare la fortuna con la pizza con i soldi oltre a monete di vario valore i fortunati che troveranno le chiavi delle taverne e vinceranno anche dei premi la festa è organizzata dalla Proloco Yelsese e sempre oggi a Civitanova del Sannio si festeggia San Martino nelle vecchie cantine alle 19 saranno aperte in via del tutto eccezionale 10 cantine nel centro storico del paese dove sarà possibile degustare i migliori vini molisani e non solo verranno allestiti anche degli stand gastronomici e no gastronomici che proporranno pietanze tipiche come i cavatelli al ragù di maiale e i cavatelli al ragù di cinghiale la festa è organizzata dall'associazione Civitanovesi nel mondo l'appuntamento dunque questa sera a partire dalle 19 a Civitanova del Sannio è tutto termina qui il nostro TG delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea come sempre ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per il TG delle 15 buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.